Ciao a tutti amici e benvenuti in un mio nuovo video Penny Books! Il book di oggi è Caro Signor F di Alice Keller illustrato da Veronica Truttero pubblicato da Camelo Zampa! E ora vi leggerò la trama Uno sgradito ospite in soffitta sconvolge l'esistenza tranquilla di Elvira e Concetta prima i rumori sospetti poi una lettera dall'agenzia case e soffitte indirizzata al Signore F Non c'è dubbio un fantasma ha preso dimora nella loro mansarda Elvira e Concetta decidono di passare all'azione una storia di amicizia di pirati e di viaggi che cambiano la vita e ora ve lo racconterò Allora ragazzi questo libro parla di Elvira e Concetta due amiche che abitano insieme che delle sere tutte le sere continuano a sentire dei rumori provenire dalla della mansarda dal piano di sopra e quindi dopo un po' dicono c'è qualcosa da sopra perché tutte le sere sentono tutti dei rumori dopo un po' si spaventano un po' e quindi tutte iniziano a circolare tra loro e due delle voci forse un fantasma forse questo forse l'altro e quindi magari hanno cioè hanno un po' paura di andare a vedere cos'è però un giorno ci vanno perché non ne possono più di questi rumori e trovano non ve lo dico non ve lo dico se no sarei super spoilerona però con questa cosa che troveranno questa cosa cercheranno in tutti i modi di mandarla via dalla loro casa faranno un sacco di viaggi che per loro saranno molto difficili perché dovete sapere che loro aspetta adesso ti dico in che senso un sacco di viaggi perché loro abitavano su questa su questa collinetta una montagna era erano sulle montagne sì però non era proprio miliardi di che c'era scusate miliardi di chilometri era una piccola montagna una montagnola una montagna cioè non è così una montagnetta né grande né piccola è un po' isolate dal mondo cioè non dal mondo però vivevano poche persone in quel paesino e per portare lontano questa cosa che trovano nella soffitta devono andare giù 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 per allontanarla tantissimo e per loro sarà un po' un'impresa perché a loro non è che piace proprio tantissimo andare giù perché non conoscono niente sono sempre sono sempre vissute qua non conoscono niente di giù quindi hanno anche un po' paura diciamo di andare giù però poi lo portano poi ritorna e quindi poi ci saranno un sacco di viaggi che loro faranno da su a giù su a giù su a giù su a giù sospeso non è horror per un pelino horror quando si dice che forse c'è un fantasma allora la cosa che mi è piaciuta di più di questo libro sono i personaggi soprattutto dei due protagonisti dei due protagonisti Elvira e Concetta le due amiche che vivevano insieme perché sono molto amiche sono migliori amiche credo perché vivono insieme però sono diversissime fra loro c'è Elvira che è un po' grassottella è la più paurosa di tutte infatti è lei quella che ha messo che aveva messo nelle loro teste c'è un fantasma c'è un fantasma c'è un fantasma quella che non voleva andare a vedere in soffitta cosa c'era e poi invece c'è Concetta che è proprio il contrario di lei lei è magretta adora i pirati quindi è super coraggiosa ma non adora solo i pirati adora anche i pirati ma adora le cose del mare le cose marittime si dice marittime lei adora tutte queste cose quindi è stracoraggiosa e lei quella che voleva andare in soffitta a vedere per ricordare e si il problema perché c'è adesso va stufata ed è quella che diceva secondo te cioè il fantasma ma secondo te è quella un po' più ma c'era il fantasma? no ma come non lo diciamo non c'era un fantasma ma c'era qualcosa che non vi dico cosa ah ok già vi ho spoilerato che non c'era il fantasma poi se mi spoilerò anche cosa c'è quindi vabbè anche la cosa che troveranno in soffitta mi sto impegnando tantissimo per non dire cosa c'è la cosa che trovano in soffitta anche quello è molto divertente infatti alla fine di ogni capitolo vi faccio vedere si vede una lettera che questo signore F che è questa cosa che trovano in soffitta manda a delle all'agenzia sia all'agenzia a case soffitte o anche a dei suoi amici infatti vedete caro Ottavio ciao Ottavio e quindi anche questo è molto divertente divertente e quindi vabbè anche lui un personaggio super 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 simpatico insomma secondo me questo libro ha un insegnamento molto bello oltre ai personaggi anche un'altra cosa molto bella l'insegnamento che è anche se a volte anche se a volte le cose più che magari un po' paura a farle non le vuoi fare perché magari magari di conseguenza si magari sei abituato in un altro modo quindi non vuoi farle e poi però quando le fai poi ti danno quella svolta che riesci a fare tutto quello che tutto quello che volevi cioè che non avevi mai fatto ad avere nuove abitudini quando tipo vi faccio l'esempio del libro quando loro hanno scoperto cosa c'era su questa nella loro non cantina soffitta quando hanno capito cos'era quando hanno visto hanno dato quella svolta quindi hanno avuto il coraggio di andare giù per la montagna di portarlo di non pensare più che era un fantasma quindi hanno avuto tutta questa svolta e poi alla fine chiederanno e loro hanno sempre chiuso là si hanno sempre chiuso là un po' un po' isolate si infatti non si dividevano mi sto facendo vabbè legate una all'altra perché poi alla fine non sapete cosa succede una cosa va bene come posso dire straordinaria si anche a me è piaciuto comunque e vabbè ti sei divertita molto si mi sono divertita molto con questo libro e anche un po' di sospens un po' giallo diciamo all'inizio giallo si all'inizio non tutto va bene e quindi vabbè e adesso vi saluto vi straconsiglio ancora caro signore un saluto da me la penny un saluto da Elvira la cicciottona e da concetta da piratessa la pirata la pirata la pirata babbo natale io vi saluto da il signore anche il signore vabbè quindi ciao 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 ciao